benvenuti salve a tutti questo è la closed beta questo è proprio iniziamo benissimo cannando la consecuzione del genere questa è la closed beta di un gioco di un gioco schifosamente giappocciaio perché lo continui a provare per farci una recensione no recensione infatti ho usato un parolone allora iniziamo subito a dire come si chiama ah seven souls innanzitutto così evitate come diciamo che vogliamo andare dal prototologo a farmi curare le morroidi e così giocare a seven souls devi essere sempre il solito esagerato allora iniziate con la gara è 437 cioè ping è 437 ma giusto una cosarella come si dice da queste parti e soprattutto dovete uccidere i mototopo che ballano guardate ma mototopo balla come si fa e voi lo dovete killare perché balla appunto si merita di morire e continua a ballare e lui continua a ballare e il mototopo muore dovete uccidere guardate un po cinque mototopo come come questo iniziale diciamo si guardate poi un'altra cosa camminate con delle spade infilate alle caviglie si guardali non cadete è bravissima ma perché è troppo ubo troppo ubo innovatissimo questo gioco guarda io ve lo consiglio no ma a me questo topo che ballerino mi ha sconvolto il pomeriggio mi ha proprio sconvolto sappiatelo non ce la posso fare seven souls di mer no di mer non ci giocate no guardate lascite veramente perdere non sappiamo nemmeno ah si ma i punti corsa che cos'è ma è più veloce oh ho livellato mi hai assordito un orecchio scusami ma che sei matto poi se te che ti assordisco un'altra parte del corpo che me la fai sapere è così per essere curioso proprio io qualcuno da queste parti ti potrebbe dire no no dire una cosa indigena ti prego motiding una cucciata vabbè abbiamo appena trascorso guarda il topo guarda il topo guarda quello si chiama mister mouse questo qua davanti oddio sono sconvolta da questi topi che ballano oltre al cinghialotto si si ti ho detto che l'avevamo già fatto qualcosa e mi ero mi sei rifiutato di ricensirlo no che era successo no era successo che il server non partiva bla 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 e l'ho disinstallato non è la settimana scorsa che disinstallato ok sono un po in confusione fa schifo tutto questo credo che sia per il craft ok però ricevi dei danni dai topi devo uccidere il super babbione qua super babbione eccolo qua si sembra il solito ma no dici che andrà quassù si vedi quelli qua ah i quelli là quello con un occhio solo il punto interrogativo quello rosso perché gli altri hanno il punto interrogativo ma è blu così io mi sono già annoiato come che facciamo la recensione più breve della recensione io gli ho queste parole il consiglio per gli acquisti più breve non lo so io so che che classe era quella con la patata da fuori non lo so insomma c'è una classe dove voi avete tutta un'armatura lungo le gambe lungo il torace non è questo non è questa ma non c'è manco che stiamo a fa vabbè ma allora dillo dillo ha cambiato vestitino scusa perché alla presentazione c'è della patata dall'aria sappiatelo quindi non mi venire a dire le fregnacce ok comunque io continuo a uccidere i boar sì una cosa innovativa appunto come dicevo che ha la proprietà di infilarsi nella roccia il boar sì non l'hai visto prima ma se posso spostare questo riuscire a spostare la lag che ovviamente peggiora ma sto loot cacchio cacchio credo che noi non faremo più di mezzo livello ancora giusto giusto per vedere riconsegniamo questa questa e basta sì seven souls è più il tempo che perdete a scaricarlo che quello che ci giocherete fa veramente cacare quanto ci hai messo a scaricarlo non lo so non me lo voglio ricordare ho fatto io ma soprattutto di quanti giochi abbiamo detto fa veramente cacare no sai perché non vuole dire cacare che mi fa in mente un tizio che c'è su youtube che dice giochi di merda quindi volevo usare un'altra metafora che non sia direttamente collegata all'ano questo gioco è tedioso ecco tedioso i bambini 12 anni che ci guardano hanno capito che fa il sottotitolo dobbiamo pensare un bel pensa pensa diciamo che è un gioco che vi fa venire voglia di studiare cioè voi preferireste fare i compiti che giocare i compiti quelli fallosi tipo medie superiori di questi compiti qua quelli proprio rompicoglioni quelli che vi chiedono giovanni ha una vasca la riempie con 20 litri poi ci butta una marmotte no poi vanno all'ortolano a prendere una mela uccide l'ortolano butta la testa dell'ortolano dentro la vasca riempita d'acqua quanta acqua è fuoriuscita esatto un problema conoscendo il numero dei tarzanelli del cuore dell'ortolano perché quello è un problema simile ma potresti fare di professione quello che scrive i problemi per i libri delle scuole è piaciuto dai ne sapeva come è il problema è più divertente tu pensa io avevo un professore di economia aziendale che ci faceva fare i compiti in classe con le società inter spa o srl dipende dal dalle da quello che stavamo studiando al momento di cui i cui soci erano i giocatori dell'inter tu pensa pensa che infanzia è difficile e questo al primo superiore quando dovevo ancora capire tutto di questa materia ah pensavo di tutto del calcio che l'inter no l'hai già capito no l'ho già capito lì ovviamente perciò mi rompeva il cazzo fare quei compiti ma come diciamo sempre forza inter continuare così ci siete piaciuti un gran professore però questo devo ammettere io seguo i pallini si bravo che ti portano sicuramente non mi sono fatto avanti con le tette si vede che mi devo guardare non sei questo non lei con questa ma io c'ho delle belle tette con questo capello imbarazzante e quello mi non devi parlare con lei devi parlare con l'omino quello è un altro giocatore eh vabbè io mi sono confuso con le tette ah signora io il pranzo mi sta tornando alla gola ma dovevo tornare sai che proprio schifo sto giochino ho fatto cosa di livello 3 no non sono da per cento comunque ci metto un sacco di tempo a reccare si è proprio che è proprio un passo guarda hai finito di picchiare da mezz'ora e stai ancora a metà è il classico delle cose giappogene i cinesi ma se io mi infilo dentro il portale non vedete che succede vai dai mi infilo il portale e sblogchiamo ma si per vedere dove si va ma stai qua eh si mi te lo trasporto qua come un imbecilla si è fermato morto e abbiamo fatto vedere un altro posto è un altro posto si è un altro posto guarda che carino però però se adesso tu mi vuoi dire che vuoi continuare a giocare assolutamente no però è carino facciamo all'aperto? vai facciamo vedere un po' di qualcosa stai andando qua a reccare di paesaggio laggando a 3000 ma eh questa corre no laggo ti sembrava una corsa più veloce la ripresa da lagge esatto guarda ti salutano anche hai visto che dì che quelli si è mezz'ilogo andiamo a vedere andiamo a vedere ma te caro ci parlo che succede che devi parlare col tipo probabilmente con il giocatore no comunque forse con quello no con questo no ci ho provato ma mi hai detto di ammene in culo ok comunque il mondo mi sembra abbastanza vuoto ma non vorrei non c'è un cazzo vorrei dire sì però ah sì sì è una tigre è una tigre ti ferma ti ferma ti ferma ti ferma ti ferma vedi quello pure è un giocatore è una tigre non c'è entusiasmato per niente mh beh voglio dire se questi sono quei riflessi sono gli effetti a palla questi sono gli effetti a palla qua che livello è sei beh tu sei solamente due dove vai dove ti avventuri vuoi far vedere come si muore ovvio c'è un altro topo sono i murloc di questo gioco i topi i topi ballerini ah c'è un'altra indicazione guarda questo io c'è un'altra indicazione c'è un santo i topi che ballano non si può vedere che si chiamano poi topo cambia nome toro sto bull e dove ho visto le corna io mannaggia la miseria fa bruttissimo comunque c'è sta specie di gilda vabbè ragazzi noi siamo entorti a palla ci scuserete il gioco mi fa voglia di fare i compiti si andate a fare i compiti andate via ciao 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 ciao